Sì, bellissimo. Dicci signor Schlangen cosa è successo. Allora, siamo in località Carpinetti e abbiamo abbattuto questo splendido esemplare di... Comune albero, non senza danni, solo che nell'abbasserlo è rimasto incastrato in quell'albero mezzo moto. Sì, adesso ci abbiamo tirato... Vedrò vedere come. Ci fa vedere un metodo... Questo è un metodo brevettato dalla ISO per la sicurezza di abbattimento degli alberi. Prego! Vai, vai! Allora, lei non dovrebbe continuare il primo metodo ondulatorio. Questo è il metodo del tempo. Non è un po' ricchiose, signor Schlangen? No! Ah, ah, la sacca è finita. Pensa cosa dirà la lobby quando vedrai filmato. Stato! 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 Vai, vai! Sì! Lo vedo scendere piano piano! Stato! Molto bene, stato! signor schlengen prende la motosega ora ci illustrerà l'uso della motosega no 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 eccola incastrata perché perché agiti l'impulso aspetta tira da fuori lentamente vai la faccio girare un po no ti va avanti